Finalmente abbiamo avuto più informazioni sul come funzionerà il multiclasse di Tiny Tina's Wonderlands. Per chi non lo sa, ad un certo punto nella storia potrete scegliere una seconda classe da dare al vostro personaggio tra le 5 rimanenti che non avete scelto. Questa seconda classe rimarrà con voi fino poi alla fine della storia. Alla fine della storia, una volta completata, potrete cambiarla come vi pare piace, la secondaria. La classe primaria invece rimarrà sempre la stessa. Quindi, quali novità abbiamo e come funzionerà questo multiclasse? Il quando lo potrete fare, ve l'ho appena detto. Quello che abbiamo scoperto è come funzionerà nei dettagli il sistema di attive, passivi, abilità d'azione, eccetera. Innanzitutto, nel caso una classe abbia un pet, quindi si parla di Domartiglio, Brandi Morte e Guardaspore, Nel caso attiviate il multiclasse con una di quelle classi, otterrete anche il pet relativo di quella classe. Nel caso abbiate una di queste tre classi e ne scegliate un'altra col pet, avrete due pet, cosa che è ancora migliore. Inoltre, abbiamo scoperto che se scegliamo queste multiclasse, quindi avremo la possibilità di avere quattro abilità d'azione, però soltanto una potrà essere equipaggiata. Un po' allo stile di Borderlands 3, quindi abbiamo varie abilità d'azione, possiamo sceglierne soltanto una. Questo potrebbe portare a delle ottime combo se andiamo a prendere abilità d'azione in una classe, mettendole in un'altra classe, però è relativamente limitante perché sarebbe stato meglio aver potuto usare due abilità d'azione contemporaneamente. Un po' come poi si fa su D&D e giochi simili. Non si ha una sola spelle e le altre sono nell'inventario, si possono usare varie spelle e si ha un tot di slot. Peccato, però a livello di bilanciamento magari hanno testato e si sono accorti che non era un granché. Per quanto riguarda invece le abilità passive, appunto abbiamo parlato dei pet, ma sappiamo che altri personaggi avranno altri bonus, come ad esempio il Stilomante ha un bonus che gli permette di fare più colpi critici, qualcosa probabilmente di simile a Megavoro di Flak. Quindi se attiverete la seconda classe con lo Stilomante otterrete questo bonus anche se non metterete nessun punto nell'albero abilità dello Stilomante. Ora, un dettaglio. Non sarà una scelta se scegliere una seconda classe o no. Sarete obbligati durante la storia a scegliere una seconda classe e a farvela andare bene fino alla fine della storia. Però non sarete obbligati a mettere dei punti abilità nel ramo secondario. Quindi se comunque vorrete continuare a farvi il vostro Stilomante full critico, full assassin senza pensare a nulla dell'altra classe, meglio così. Fatelo. Magari prendete un'altra classe che anche se non inserite nessun punto vi dà dei bonus utili. Mi viene da pensare magari al Brandi Morte che vi darà il Leech come follower che tirerà delle magie quando voi fate le vostre. In modo che mentre usate lo Stilomante avrete comunque qualcosa di utile anche se non avete messo nessun punto. Si parla poi un attimo dei cooldown delle abilità d'azione dicendo che le abilità d'azione hanno un tempo di ricarica ridotto che ti permetterà di sfruttare più e più volte e tuttavia non sarà così rapido da permettere di equipaggiarle ogni volta che vuoi. Questa cosa quindi potrebbe voler dire che le abilità avranno circa 5-10 secondi di cooldown. Direi più sui 10 che sui 5. Non credo che sarà qualcosa allo stile dei Rack di Flack. Quello sarebbe un po' troppo poco del cannone di Zayn. Però qualcosa sullo stile delle abilità di Amara ci potrebbe stare. Non con i 30 secondi di cooldown che hanno all'inizio del gioco magari con i 10-12 secondi che hanno in late game. Come cooldown quelli sarebbero più che buoni perché comunque tempo di ricarica ridotto non può voler dire 30-40 secondi come Orso di Ferro. Deve per forza essere meno. Poi si parla appunto di quello che vi dicevo delle opzioni che avrete per le abilità d'azione ma da quello non c'è altro. Queste quindi sono un pochino tutte le informazioni che abbiamo ottenuto sul multiclasse. Domani ci sarà un video sul devblog che hanno fatto con questo trailer. Su cui ci sarà qualche dettaglio in più e parleremo anche degli Aeropoint. Nell'attesa di quello vi invito a cliccare qui per vedere la mia analisi dell'ultimo trailer di Tiny Tina's Wonderlands.